è un giocatore talentuoso che è Malamoncini. Cioè lui può anche giocare a Medellano, un portatore d'acqua, come si dice, no? Sì. Un portatore d'acqua, l'abbiamo capito. No, nel senso che se tu hai un cento app fortissimo, lui è anche Udi, non è stata l'altra difesa, però l'Inter è una squadra che dovrebbe avere un regista di un'altra categoria. Arotti, per esempio, si sente male quando vede a Medellano, anche De Jong nel Milan. Se vuoi avere a Medellano devi avere altri cento app forti, o comunque almeno avere un'alternativa al centro, un'altra difesa per le forti incidenti, o almeno a livello dell'intervento. Abbiamo passato tutta la scorsa stagione, da gennaio in poi, a dire che in Mancini si ritrova una squadra non creata per sé. Adesso che cosa deve dimostrare? Deve dimostrare che con i giocatori voluti a lui può far giocare bene la squadra. Intanto Vino che sta comprando delle ali vuole Perisic, se le stesse nuove dicendo di un'ala, l'alanzo, lo giro a Puglano, magari scelgiremo la squadra, se giochiamo di 4 o di 3, può anche essere secondo me recuperato, anche se forse lo vogliono spedire a casa. E quando tu hai giocato di due, non è attuale. L'anno scorso lui non ha fatto delle sconcini, però con la scusante di una squadra mazzarriana. Se la squadra è mazzarriana... La notizia è in casa a Milan che ti ha fatto un po'...